La narrativa o la prosa è il contenuto che svilupperemo nel programma di prima e quest'anno. Il testo, quando utilizziamo questa parola, la parola testo, immediatamente ci viene in mente qualcosa di scritto, ma la forma attraverso cui il testo può manifestarsi è chiaramente differente. Se io vi dico, pensate ad una poesia, mettetela a confronto con la pagina di un romanzo che in questo momento state leggendo, immediatamente noterete che una prima differenza che c'è è proprio quella grafica, quella cioè di quello che vediamo. Una poesia ha un contenuto che già graficamente è ridotto nello spazio, mentre il romanzo, la narrativa quindi, ha un contenuto che si sviluppa su tutta la pagina. Uno stesso contenuto però può essere espresso in forma poetica oppure in forma narrativa. Allora già cominciamo a comprendere come la parola testo abbia un significato molto vasto. Per comprendere bene il significato delle parole, la prima cosa da fare è sicuramente andare all'origine stessa delle parole. Testo è una parola che deriva dal latino textum, che vuol dire tessuto. E' interessante questa parola perché se noi pensiamo al tessuto, immediatamente ci viene in mente il tessuto, per esempio, di una maglia. Pensate a un maglione fatto con i ferri a maglia larga, noi riusciamo a vedere questo tessuto come risultato di un incrocio tra fili che vengono appunto lavorati con i ferri per dare forma poi ad un maglione. E' interessantissimo questo parallelo tra il tessuto inteso come insieme di fili che lavorati insieme danno origine ad una trama e lo stesso utilizzo della parola testo, cioè tessuto, che usiamo quando ci riferiamo, per esempio, ad un racconto. Del racconto diciamo pure che esso ha una trama. Allora, cosa è il tessuto? O meglio, cosa è il testo? E' un insieme di parole che opportunamente scritte sono dotate di significato, quindi di senso e hanno al loro interno una coerenza che le rende comprensibili a chi le legge. Allora diamo una definizione più chiara. Il testo è la disposizione ordinata di elementi dotati di significato connessi tra di loro in modo da formare un'unità. Quindi il testo non è formato soltanto da parole ma può, per poter essere completo, avere al suo interno anche immagini, suoni. Oggi che viviamo in una realtà multimediale, digitale, chiaramente possiamo dire anche video. Tutto è un testo. La cosa importante è che possieda al suo interno la coerenza, la correttezza chiaramente e quindi l'unità. Cosa vuol dire la coerenza? Vuol dire che quanto è contenuto all'interno del testo deve dare un significato che sia coerente appunto, cioè che abbia senso. Se io dico tante parole senza senso, se io sto parlando della natura e come video metto una partita di calcio, non c'è una coerenza. Quindi la coerenza si ha nel momento in cui quello che io sto utilizzando per elaborare un testo ha significato nel momento in cui lo mettiamo insieme. Parliamo di letteratura, parliamo di in particolar modo di italiano, allora andiamo un pochino più a fondo. Quando parliamo di testi in italiano intendiamo tutto quello che appunto in forma in particolare scritta ha un suo significato. Immediatamente però ci vengono in mente, non so, appunto, le poesie, i testi teatrali, i testi di un romanzo, ma non necessariamente è così. Quando noi comunichiamo, quando noi diciamo qualcosa, possiamo farlo anche attraverso una cartina. Per esempio, una cartina, la pianta della nostra classe, non è un testo narrativo, ma ci comunica qualcosa. È comunque un testo che contiene al suo interno parole, la leggenda per esempio, ma anche un'immagine, i posti, i banchi, così come devono essere collocati. Allora, la cartina è pure un testo, che non è certo un romanzo, ma che ci sta dando delle informazioni. Non solo. Pensiamo per esempio ad una legge, ad un regolamento, al codice della strada. Anche quello non è un'opera letteraria, ma comunica coerentemente qualcosa. Più che comunica, o meglio, oltre a comunicare qualcosa, il codice della strada ci dà delle indicazioni precise di comportamento. E se noi non le rispettiamo, la prima cosa che succede è che può avvenire un incidente. C'è il segnale del rosso al semaforo, il codice dice che mi devo fermare. Se io non mi fermo, la prima cosa che accade è sicuramente un incidente, poi se non faccio un incidente, ma c'è il vigile, quello che accade è che mi fermo e mi fa una multa. Perché io non ho rispettato il codice della strada. Quindi in quel caso quel particolare tipo di testo non solo mi dice delle informazioni, ma mi obbliga a rispettarle. la stessa cosa è un regolamento di istituto. Allora, pensiamo anche al giornale. Quello che leggiamo prima cartaceo, adesso sempre di più, sta diventando online. Sono parole anche quelle scritte che hanno un loro significato, che raccontano qualcosa che è accaduto ieri, ora, in questo preciso istante, pensiamo ai giornali online. Quindi anche quelli sono dei testi. Sono un insieme di parole che hanno un loro significato interno e che però non mi obbligano a fare qualcosa, non vogliono convincermi, ma vogliono darmi informazioni. Già cominciate a vedere come i testi, sostanzialmente, possono essere divisi in due grandi categorie. La prima è quella dei testi letterari. La seconda è quella dei testi non letterari. Quando parliamo di testi letterari, allora, cosa vogliamo dire? A cosa vogliamo riferirci? Sicuramente al testo poetico, al testo narrativo e al testo teatrale. Le tre forme attraverso le quali un testo letterario viene manifestato. Gli obiettivi? Sicuramente quello di comunicare qualcosa. Nel caso delle poesie, prevalentemente delle emozioni. Nel testo narrativo, una storia. Nel testo teatrale, una storia raccontata attraverso la sua stessa rappresentazione. Quando vediamo un testo poetico, un testo narrativo e un testo teatrale messi l'uno accanto all'altro, immediatamente li riconosciamo, perché hanno delle caratteristiche specifiche che fanno sì che, se vediamo un testo in cui ci sono gli attori, come devono disporsi sul palcoscenico, le battute che devono dire, è evidente immediatamente che si tratta di un testo teatrale. Vi ho dato esempi però anche di altri tipi di testi che non sono letterari, ma che hanno degli scopi. Stiamo parlando dei testi non letterali, letterari, detti anche testi pragmatici o uso. Pragmatica significa pragmatico, significa pratico. Cioè sono dei testi che utilizziamo nella nostra vita quotidiana per uno scopo. Infatti si dice pure che sono dei testi pragmatici o d'uso che hanno uno scopo. Guardiamoli. I testi per informare. Il giornale è sicuramente un testo per informare, ma anche il resoconto di una sperimentazione che ha raggiunto dei risultati è un testo per informare in forma espositiva, ma anche la descrizione di un paesaggio ha lo scopo di informare in forma descrittiva. Quindi la prima categoria dei testi è proprio quella per informare i cui contenuti possono descrivere, esporre o narrare qualcosa. Poi ci sono i testi che vengono definiti espressivo emotivi, cioè quelli che noi scriviamo per esprimere i nostri stati d'animo, le nostre emozioni. Non parliamo di poesie, attenzione, ma una lettera per esempio potrebbe essere un testo che esprime emozioni, una canzone potrebbe esserlo. Le poesie appartengono al genere, appartengono ai testi letterari. Nel romanzo I promessi sposi di Manzoni il primo capitolo si apre con la descrizione del paesaggio in cui avviene tutta la vicenda di Renze e Lucia, quel lago del ramo di Como eccetera eccetera. Tutta la descrizione tra due catene infinite di monti c'è tutta la descrizione di questo lago che sorge a mezzogiorno tra due catene infinite di monti. Cioè poco a poco ci sta dando descrivendo il paesaggio delle informazioni sul contesto e la troviamo all'interno di un testo narrativo. Andiamo ad altri tipi di testo. Testi per interpretare testo di Mataji o per valutare o per valutare? sono quei testi per esempio le recensioni quei testi che noi scriviamo per esprimere la valutazione di qualcosa o per interpretare qualcosa. Ancora testi per prescrivere comportamenti per convincere pensate per esempio alla ricetta del medico da cui mi sono recata perché mi sento male lui ha esaminato i miei sintomi e poi mi ha dato una ricetta nella quale ha scritto quali medicinali devo prendere e come li devo prendere qual è una prescrizione medica che io se voglio guarire devo obbligatoriamente seguire ma anche una multa è una prescrizione ma se vado a messa e c'è il prete che fa la predica anche quello è un tipo di comunicazione che ha lo scopo di convincermi di qualcosa qualcuno che mi vuole persuadere della sua idea un politico qualcun altro che si sta candidando mi esprime la sua idea e lo fa attraverso un insieme di parole che hanno lo scopo di convincermi testo che cerca di essere persuasivo testi che hanno questo scopo non sono anche detti testi argomentativi è quelli che utilizza per esempio un avvocato quando deve dimostrare l'innocenza del suo cliente allora deve essere bravo a organizzare il suo testo attraverso una serie di tesi che intanto enuncia poi comincia a supportare attraverso una serie di prove per arrivare quindi ad una deduzione finale che è quella dell'innocenza del suo cliente testo argomentativo ci sono proprio delle tecniche che vengono utilizzate in maniera specifica per poter elaborare queste forme testuali allora per riassumere i testi si dividono in due grandi categorie quelli letterari e quelli non letterari le differenze sono quelle che trovate in questo slide e se ci pensate tutto quello che noi mettiamo in comune quando comunichiamo per l'appunto è da collocare all'interno di queste grandi categorie grazie